Il santuario di Pieve a Socana fu edificato lungo la via che D'Arezzo portava in Casentino e attraverso i passi appenninici nella Romagna, Etrusca e Umbra. Oltre agli importanti resti di un tempio tuscanico e di un grande altare, il santuario ha conservato grandi dischi in pietra fetida che dovevano essere stati posti all'interno del recinto sacro e che furono in seguito ammassati, forse al momento del rifacimento del tempio, in età ellenistica. Benché il loro uso rimanga ancora incerto, questi dischi sono stati recentemente ritenuti altari per il sacrificio, poggiati sul suolo e dedicati a una divinità solare e ctonia al tempo stesso da identificare con Manth. L'altare discoidale di Socana, databile entro i primi decenni del V secolo a.C., tra i molti segni forse legati anche al suo uso per sacrifici cruenti, presenta due testi, uno di difficile lettura e l'altro costituito dal solo nome del donatore, La formula usata è molto semplice, dato che si dichiara solo il prenome Arut e il gentilizio Creinie, che lascia trasparire un personaggio di rango. In particolare, il gentilizio tradisce inoltre una affinità con l'etnico greco Graios, in etrusco Kraie.